La sua morte come nella scena di un film. Davanti ad un bar di Trastevere raggiunto da una pallottola che gli si è conficcata nel fianco, mentre è appena salito sulla sua Reno 5. Mette in moto la vettura e riesce ad arrivare fino in ospedale, crollando poi fra le braccia degli infermieri e morendo mentre i medici stanno per intervenire. Er Negro, al secolo Franco Giuseppucci, 33 anni, uno dei gangster più in vista della banda della Magliana, non poteva che morire così, cercando di salvarsi da solo. Era un sabato, sabato 12 settembre 1980.